Ministro, nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la sua dichiarazione sul crocifisso, ma lei non ha mai detto di volerlo togliere il crocifisso dalle classi? No, non soltanto non l'ho mai detto, non ho mai neanche immaginato di poterne parlare di questa cosa. Non è all'ordine del giorno dell'attività di questo governo, non è all'ordine del giorno delle mie attività come Ministro. È una di quelle cose che hanno a che vedere con questo dibattito isterico del nostro Paese, per cui a fronte di una domanda insistente, che molto spenso probabilmente nessun giornalista che l'ha riportato abbia ascoltato la mia conversazione, perché altrimenti non sarebbe stata una notizia, però io mi sono slimitato a dire tre volte che non era all'ordine del giorno, la quarta volta alla domanda ma lei nel mondo ideale, la sua scuola ideale, che scuola è, sarebbe, io ho detto, beh io credo in una scuola laica e mi piacerebbe che sulle pareti ci fossero dei riferimenti alla Costituzione dello sviluppo sostenibile. Punto. Cioè è diventato, a me un po' sorprende, che con le scuole che crollano, con gli impegni nei confronti della lotta al precariato, con gli impegni sul sostegno, con davvero questa battaglia che questo Ministro sta combattendo, forse primo negli anni, non ricordo altri Ministri della scuola, dell'Università della Ricerca, che si fossero battuti così tanto, anche investendo il proprio cap personale politico, e la propria credibilità, poi alla fine si dibatta di questo sui giornali italiani, creando un vespaio mediatico che poi, come spesso accade, è un po' il gioco del telefono, uno dice una cosa completamente diversa, poi è impossibile rintracciare l'originale, tutti parlano di un sentito dire che esce fuori controllo. Forse il fatto che non abbiamo investito abbastanza sulla scuola in questi ultimi decenni, ora ne paghiamo anche il prezzo dal punto di vista dell'isteria collettiva del nostro dibattito sociale e mediatico, forse avessimo fatto meglio in passato avremmo un dibattito anche molto più sereno su certe questioni.